Ecco in primo piano la Bonalè e di qua abbiamo la Gran Rocher, noi prenderemo quel canarone di neve. Ecco la Guilde Bonalè e tutta la cresta che porta qui verso la Guilde Artanavans. Eccolo lì, qui c'è il lago, lì c'è Corrado. Continua la gita, siamo a quota 2740 sul piano di Artanavans, qui c'è il lago Bonalè, qui dietro, là c'è la bestia Artanavans, Rielmon, Gran Creton. A dopo, lì c'è Corrado, ecco il lago di Bonalè, allora là c'è la Guilde Artanavans, Mon Creton, Gran Creton. Noi andremo di lì e poi per quella dorsale saliremo su. Ecco la Guilde Bonalè e tutta la cresta che porta qui verso la Guilde Artanavans. Eccolo lì, qui c'è il lago, lì c'è Corrado. Siamo a 150 metri dalla vetta, allora qui tutto il Valone, qui c'è lì c'è il lago di Bonalè. Allora lì c'è l'Artanavans, la Bonalè e la Gran Rocher. Lì c'è Corrado, eccolo che sta arrivando. E noi andremo lì per quel canalone. Ormai siamo, abbiamo una certa confidenza con i canaloni. Ecco l'ultimo canalone, Corrado è quasi il termine del canalone, eccolo lì. Allora qui c'è il canalone, oppure la Cristina. E ormai la vetta è lì, eccolo lì. Guardate il panorama del bianco. Gioras, bianco. Moody, Turrond, dentro il gigante, Mondolent. Ecco Corrado, continua la gita. Ecco il lago di Bonalè, guardatelo. Tutti i nevai, siamo saliti lì tra un nevai e l'altro, risalendo la china qui su questa cresta, sul canalone. Arrivando qui, vediamo Corrado, lo metto, è la Gran... Gran Creton. Gran Creton, 3060. 71 per esattezza. Allora, tutto questo percorso, allargato al lago di Bonalè, è stato eseguito in due ore e 55 da Planavalle. Allora, la giornata è frescolina, difatti abbiamo trovato diverso ghiaccio nella parte finale qui. Allora, lì vedete la Gran Rocher, la Petite Rocher, la Punta di Bonalè, il Monte Bianco, il Mont Moody, il Dente del Gigante, Poi il Grand Jirage, il Mont Dolanè, allora qui lo metto, qui c'è Corrado, eccolo qui, allora qui ce lo metto, là dietro c'è il Rifugio Frassati, allora la Gran Goliath, Colle del Malatrà, Montiapie, Montiapie, e quelle lì non le... cos'è? Ah, vabbè, Dolan, Triolet, Dolan, Triolet, La Vert, La Vert, La Vert, La Gruetta, Agrivesto, Telafre, 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 Grand Jirage, poi qui abbiamo geletto, le Zache, le Zache, con la Gran San Bernardo, ci vede il collo della Gran San Bernardo, e il Gran Combin, sotto il Gran Combin, il collo della Gran San Bernardo, e il Cerviglio è una lontananza, è rosa. Allora, 11 agosto 2016, in compagnia di Corrado, con partenza da Ranaval, siamo arrivati qui al Gran Cretazzo, Creton, 3070, in 2 ore e 55, giornata un po' frescolina, ringrazio Corrado, che adesso vi inquadra il panorama, alla prossima! Allora, ecco il panorama, di nuovo qui, Gran Rocher, Punta di Monalè, Allora, come si chiama quello lì Corrado, la prima qui, quella punta? Guglia di Malatrà, Monte Bianco, Mon Maudì, poi andando a destra arriviamo al Dente del Gigante, Poi, Cresta Rochefort, Gran Girass, sotto c'è la Gilde Artaravats, poi abbiamo la lezione di rientro, ecco gli ultimi metri, vedete che verticale c'è, arrivare alla Gran, alla cima, vedete gli ultimi metri? Eh? Gli ultimi metri lì della Gran Creton, lo vedete? Ripido, si passa vicino con l'erba, si tiene la cresta o si prende il canale? Si prende la cresta dopo l'erba o si fa il canale? Poi si sta un po' più bassi della cresta e si arriva in cima? Ecco tutto l'ultimo mellone prima della Gran Creton, e di qui c'è Gran Creton, ecco la la cima, il canale è quello vicino all'erba, lo vedete? Di qui ci vedete meglio, il canale è vicino all'erba, molto ripido, e se non prende il sole c'è anche il ghiaccio, come oggi. Allora, la vera cima è l'ultima in fondo, qui abbiamo le Bonalee, e la Gran Rocher, e il lago di Bonalee, è un sacco oggi. Ecco Corrado, e tutte le montagne, sta arrivando qualche luna in distanza, ma non preoccupate, siamo a quota 2850, ok, a dopo. Fase discesa, guardate la Gran Rocher e la Bonalee, noi siamo scesi da qui, allora qui c'è questo sperone, la traccia va lì a destra, e poi ci riesce l'Ale, abbiamo fatto un anello, scenderemo, giù l'Ale è il peggio, prima siamo passati dentro quel canale di Rì, qui c'è Corrado, a dopo. e qui c'è il di Bonalee, la Gran Rocher.